Su questo campo hanno giocato generazioni di giovani, di Veroli e non solo. Il Cereate di Casamari è uno dei luoghi simbolo del calcio giovanile e dilettantistico Ciociaro. Di proprietà dell'Abbazia è ceduto e incomodato d'uso al comune dopo i lavori di restyling la struttura. Ha un nuovo look. Oggi Veroli si colloca nel panorama nazionale per numero, per qualità soprattutto di impianti sportivi. Palazzetto dello Sport che è il secondo nel Lazio dopo il Palo Lottomatica. Tante strutture sportive che stiamo realizzando sul territorio e questa splendida struttura qui a Casamari il Cereate. Una struttura bella, nuova, moderna, credo che oggi l'obiettivo è raggiunto. Quello di far venire tanti ragazzi appassionarsi allo sport, appassionarsi alla pratica sportiva. È stato rifatto il campo, c'è una nuova pista d'atletica, nuovi spogliatoi, una nuova tribuna e nuovi parcheggi. Tutto assolutamente fruibile anche da parte di persone con disabilità. Noi siamo molto fieri di aver potuto collaborare a questo servizio a beneficio delle persone che amano lo sport e ci auguriamo che sia un terreno fertile per l'incontro, per la competizione ma in un clima di amicizia, di pace e di fraternità. All'inaugurazione della struttura anche uno che di sport e ad alti livelli se ne intende come il preparatore atletico Costantino Coratti. È fantastico, queste sono opere che riqualificano il nostro territorio, il nostro territorio aveva veramente bisogno di riguadagnare terreno rispetto ad altre realtà e quando possiamo inaugurare impianti di questo genere fa veramente bene al cuore. Calcio ma non solo, tante le strutture per lo sport avveroli. Tante palestre nelle varie zone e plessi. A parte il palazzetto dello sport abbiamo anche le palestre di Casamari dove a giorni inizieranno i lavori di messa a norma, la palestra di San Giuseppe le Prada, la palestra del Giglio, la palestra di Santa Francesca, la denso struttura del Palagoccia. Dopo l'inaugurazione del campo tanti gli eventi previsti fino al 13 agosto per i bambini al Cereate. Ci saranno sorprese, tantissimi giochi, partite e tante belle sorprese per i vostri ragazzi. Così il Cereate oltre ad essere un impianto sportivo è anche un impianto dove si guarda il futuro per i nostri bambini, quindi dove si socializza, dove si fa una competizione costruttiva.